La Sardegna dice no alla guerra come strumento per risolvere le dispute internazionali e si stringe attorno alla comunità ucraina presente nell'isola e al popolo ucraino impegnato in queste ore in una battaglia impari contro le forze armate russe al fine di mantenere la propria identità come nazione indipendente e sovrana. Sono state circa 3.000 le persone che stamattina a Cagliari hanno preso parte alla Marcia per la Pace promossa dalla comunità ucraina. Sindacati e associazioni con l'obiettivo di far cessare immediatamente l'invasione ordinata al presidente russo Vladimir Putin. Ad aprire il corteo un gruppo di donne che vivono da tempo in Sardegna che con in mano mimose e bandiere giallo-blu hanno gridato a forte la propria disperazione per il destino dei familiari rimasti in patria e in balia degli eventi. Il corteo si è svolto nel cuore di Cagliari tra Piazza Iene e il Corso Garibaldi. Tanti gli slogan contro la guerra e l'aggressione russa manca appelli alle democrazie occidentali affinché si sveglino dal torpore e adottino provvedimenti efficaci contro il regime autocratico di Putin. Non sono mancati momenti di commozione come quando è stato intonato l'inno nazionale ucraino. Anche Nuoro si mobilita contro l'invasione russa. Stasera alle 19, promossa dall'amministrazione comunale, si terrà una marcia per la pace. Il corteo prenderà il via dal municipio, attraverserà il Corso Garibaldi per concludersi in Piazza Vittorio Emanuele.